Con le braccia aperte, le gambe indietro, così. Ciao! Per chi ha il video guardi avanti, per chi ha il video il carattore davanti, sorridete, di sospettare, eccetera, per chi non c'era il sintonio. E fino alla quota di acqua, sono arrivati a 5 minuti. e poi i 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